Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per registrare un video haul Finalmente, in realtà sarebbe un try on haul Perché non ho solo vestiti, anzi ho comprato un po' di cose Ho comprato forse meno vestiti del solito, ma più altre cose, ecco Quindi sono qua per farveli vedere, spero che questo video vi possa piacere E iscrivetevi al canale Io direi subito di iniziare, perché potrebbe essere un video abbastanza lungo Direi di partire dalla sezione vestiti Che, ripeto, non sono tantissimi, ma un po' ne ho comprati Quindi, come al solito, dei vestiti, vedrete le clip dei vestiti indossati appunto Iniziamo con i prezzi, premetto che non me li ricordo assolutamente Potrei tentare a indovinare, ma... non lo so Comunque, questa Che è una canottiera molto semplice in realtà Con... di questo colore, sembra quasi grigio sporco E... è molto comoda Non ho mai avuto una canottiera del genere Perché... il taglio, non lo so, mi piace un sacco come mi sa E... forse per me la metterei sempre, tutti i giorni Peccato che con questo caldo, sudando, si può mettere un giorno e poi deve essere lavata Io ho preso la taglia L, anche perché era l'unica che era rimasta L'ho presa da Tully Whale Sembra di averla pagata, se non sbaglio Da 4 euro all'incirca O 4-5 euro Continuiamo con Tully Whale Ho preso questi jeans Corti, ovviamente E... il colore è bellissimo Spero si possa vedere meglio da lì, come dal vivo E' molto bello il colore Sono fatti... Gli ho pagati, erano in sconto Penso 9,99, una cosa del genere E... eccole Sono molto belli a mio parere Poi con questi tasconi qua Non lo so, stanno molto bene addosso Dietro sono fatti così L'ultimo pezzo da Tully Whale Questa canottiera fatta così Che è una canottiera molto semplice Io, purtroppo, le cose semplici non le ho Ma ho le cose tutte estravaganti Infatti, una canottiera del genere Io nel mio armadio non ce l'ho Niente, fatta così Dietro è fatta così E' molto bella Molto comoda Mi piace veramente un sacco Soprattutto come mi sta addosso E anche qua penso di averla pagata 4 euro 5, mi sa E ho preso una taglia XL Perché, ripeto, era l'ultima che era rimasta Passiamo adesso a ciò che ho comprato Dentro il centro commerciale Perché dovete sapere che Se siete di qua Ovvero di Casale Monferrato Alla cittadella Quando si entra dentro il supermercato Per fare la spesa C'è sempre una bancarella Con costumi Pantaloncini Ciabatte C'è sempre qualcosa da vestire E casualmente mi sono fermata E ho comprato due paio di pantaloni Ho comprato questi Che sono della K Qua c'è il segno Oddio Qua c'è il segno Sono della K Sono fatti così Sono blu E molto comodi Anche questi qua vanno un po' Su in mezzo alle gambe Ma, ripeto, penso sia proprio una cosa Del pantalone stesso E del mio fisico E appunto poi ho preso Un altro paio di pantaloni Che sono questi qua Sono questi Sono molto semplici Della Guru Ah sì Perché c'è scritto C'è la scritta sul sedere Guru così E Gli ho pagati penso 7 euro Mi sembra 7 euro Tutti e due Se non sbaglio Io così semplici Gli ho Ma sono molto corti Questi qua sono un po' Più lunghi Continuando Da HM O H&M Come volete chiamarlo Ho preso un top Sinceramente non so Quanto io l'abbia pagato Non ne ho proprio idea Penso di averlo pagato O 9,99 O 12,99 Una cosa del genere Comunque Se c'è ancora sul sito Potete cercarlo Qua È molto bello È totalmente trasparente Infatti Se io metto la mano dentro Questo lì non si percepisce Comunque Si può vedere la mano E Infatti tipo Io lo metto Solitamente con registrino nero Perché in realtà È l'unico registrino Che Mi sta bene Ecco Mettiamola così Per non dire cose Troppo E quindi si vede Però Nel senso sti cavoli È una certa È estate Comunque È fatta così È arricciato qui E sembra appunto Di carta velina Perché è molto 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 leggero L'unica cosa È un po' chiuso qua Torna al collo Infatti Sembra quasi una dolce vita In realtà non è dolce vita Ma Cioè Non fa passare molta Un centro commerciale Ho preso questa gonna Che ok Voi direte Sembra quasi la cerimonia E fino qua Ci siamo tutti Però È bellissima Addosso È veramente Veramente Molto bella È fatta così Con questi buchi Con i Io li chiamo La bronzatura È bellissima Il bianco con la bronzatura Sta sempre bene Secondo me Pagata Penso 20 euro Questa Questi due vestiti Che vi farò per far vedere Mi sono stati regalati Da mia zia E sono di Forse Tally Whale Anche Non lo so Sono lunghi Quindi Li potrete vedere Nella clip Adesso sarà un po' difficile Farveli vedere Comunque Questo È verde Di questo colore Bellissimo E non ho mai avuto Niente di questo colore Giuro Poi ha uno spacco Qua c'è lo spacco E va giù Adesso E ripeto È un po' difficile Farvelo vedere C'è l'altro vestito Non so quanto Li abbia pagati Perché appunto Essendo un regalo Non ho idea di quanto Li abbia pagati Questo è l'altro vestito È fatto così Maniche corte È di questo blu Bellissimo Anche questo qua Lungo fino ai piedi Che va giù E qua c'è Anche qui Un mini spacco La cosa particolare Appunto è che Questo qua A differenza dell'altro È a maniche corte E qua c'è Questo buco Diciamo Sulla pancia Molto bello Diciamo che se mettete Un paio di mutande a vita alta Si vedono le mutande Però va bene Nel senso Questa cosa è molto rituelvibile Adesso passiamo a tutto il resto È molto difficile Da farvi vedere Ma ho comprato una valigia Che adesso tenterò Ok Non sta neanche Dell'inquadratura Per quanto è grande Comunque fatta così Magari di qua Si vede meglio il colore Fatta così È gigante E me l'hanno presa I miei genitori Quando sono andate A fare la spesa Io inconsapevole Di tutto ciò Perché Era innanzitutto 50% Quindi penso L'abbiano pagata 40 euro E poi perché L'anno scorso Non so se avete visto Il video di La Egueglia Forse ve lo lascio qua Comunque si è rotta La mia valigia E quindi L'abbiamo presa Una nuova Ora passiamo A tutto il resto Che non so come catalogare Comunque Passiamo al resto Innanzitutto Mi sono fatta comprare Dal mio ragazzo Ovviamente Dandogli soldi Un'acqua profumata Questa Anche perché Mia mamma sa Che io ho comprato Un'acqua profumata Mi uccide Perché ho 200 miliardi di profumi Solo che io ne metto troppo E quindi Le finisco subito Questa qua Di Nani Potrebbe essere Non lo so Questo qua È buonissima È a More e muschio È un sacco dolce Cioè Chi non è abituato A portare profumi dolci dolci Questa Non la sopporto Pagata 6 euro Mi sembra Ho preso Due libri da leggere Questo Alla Mondadori Ovviamente Li ho comprati Che appunto L'ho pagato 3,90 Io Vado sempre su libri Molto cheap A meno che Non me li regala qualcuno Comunque Questo qua Che è di Anna Premoli Penso si lega Ti prego Lasciati odiare Ed è Un sacco bello Qua c'è tutta la trama E leggendo la trama Qua dietro Mi è piaciuto tantissimo E poi ho comprato questo Sempre 3,90 euro Che è di Ellie Kennedy Ed è Il contratto Cioè si chiama Il contratto Questo qua So che è una saga Infatti vi metterò qua Gli altri libri Se mi piace Continuerò a leggere la saga Sono andata da Tiger E ho comprato qualcosina Ho comprato Questa agenda qua Che ho pagato Non ne ho idea 6 euro mi sembra Mi sembra 6 L'ho comprata per l'università In realtà Perché come sapete Io andrò a fare l'università Mi sono già iscritta Quindi sono già immatricolata E è fatto così Comunque È un planner Bellissimo Praticamente Qua sopra si scrive la settimana E qua ci sono tutti i giorni liberi Qua ci sono le cose importanti da scrivere Le notte Perché è sottile È comoda da portare Non è neanche tanto tanto grande Ho comprato una borsa Adesso è piena Perché oggi devo andare a scuola guida È l'ultima lezione Prima delle vacanze Perché poi stanno chiusi un mese Questa borsa qua È stata un regalo Per la mia maturità In realtà Prima della maturità Mia zia mi ha regalato questa borsa Bellissima Di questo verde E diciamo che è un po' difficile da abbinare Io la metto un po' con tutti i colori Ma perché è molto comoda È un sacco spaziosa Infatti questo qua è lo spazio Cioè sembra poco Ma a me sta veramente di tutto Qua c'è una tasca Siamo alle ultime due cose Mi sono stati omaggiati Questi sandali Perché una ragazza Che mi conosce ovviamente Non li metteva più O comunque li ha comprati Ma non gli piacevano Non so bene Comunque sostanzialmente Me li ha regalati Li sto sfruttando tantissimo Può vedere anche da questa scritta Che sta andando via E sono fatti così Infatti sono anche sporchi sotto Sono fatti così Molto semplici Con tutti i brillantini E mi piacciono tantissimo Altro paio di sandali Questi qua mi sono stati omaggiati Da mia nonna Ormai tutto quello che ho È stato omaggiato Sono questi qua Con la suola in sughero Ok in sughero Sono leggermente scomodi Perché appunto la suola in sughero Secca un sacco il piede E sembra strano camminare su questo Però sono anche molto belli Cioè sono Hanno questo gioiello Diciamo E sono veramente molto belli Questo era il video Spero che vi sia piaciuto Vi auguro una splendida giornata Serata Indipendentemente dal momento in cui Guarderete questo video Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E seguitemi su tutti gli altri social Io vi aspetto in un altro video YouTube Mando un grande bacio E ci vediamo presto In un nuovo video Ciao Ciao